La vera arma di ogni gentiluomo è la sua eleganza. Con quella si poteva fare tutto rapinare, uccidere, rubare, mentire senza mai essere sospettati. Chi vuole troppo è un pazzo, perché un uomo non può possedere più di quello che il suo cuore riesce ad amare. Una lingua gentile taglia e colpisce meglio di ogni coltello. Nessuna forza politica, nessun potere imposto con una bandiera vale tanto quanto la libertà naturale di una singola persona. Gli sbirri sono diversi da tutto il resto dell'umanità, perché hanno dentro la voglia di servire, di essere sotto padrone. Non capiscono niente della libertà e hanno paura degli uomini liberi. Il loro pane è il nostro dolore, figlio mio. Come si fa a venire a patti con quella gente? All'epoca dell'URSS tatuare era ritenuto un crimine in sé, e per questa attività si andava in galera. La fame viene e passa, ma la dignità una volta persa non torna più. I tatuaggi bisogna, soffrirli. Dopo aver vissuto qualcosa di particolare, lo si racconta tramite il tatuaggio come in una specie di diario. Gli animali vivono seguendo il loro istinto e non fanno sbagli. L'uomo vive seguendo la ragione, quindi ha bisogno di una parte della vita per fare sbagli, un'altra per poterli capire, e una terza per cercare di vivere senza sbagliare. Muto era soprannominato così perché non parlava mai, ma quando parlava diceva quasi sempre cose vere. Una volta sono stato con lui tre giorni a pescare, e in tre giorni non ha pronunciato neanche un suono, giuro, neanche uno. Secondo la tradizione siberiana, l'omosessualità è una malattia infettiva molto grave, perché distrugge l'anima umana, noi quindi siamo cresciuti nel completo odio verso gli omosessuali. Bisognava rispettare tutti gli esseri viventi, categoria in cui non rientravano i poliziotti, la gente legata al governo, i bancari, gli usurai e tutti coloro che avevano tra le mani il potere del denaro e sfruttavano le persone semplici. Ho vissuto la mia vita come un lupo degno, ho cacciato molto e ho diviso con i miei fratelli tante prede, così adesso sto morendo felice. Invece tu vivrai la tua vita nella vergogna, da solo, in un mondo a cui non appartieni, perché hai rifiutato la dignità di lupo libero per avere la pancia piena. Sei diventato indegno. La materia e il tempo non hanno nessuna importanza, sono solo circostanze naturali della nostra esistenza. Nella comunità siberiana si impara a uccidere da piccoli. La nostra filosofia di vita ha un rapporto stretto con la morte. Ai bambini viene insegnato che il rischio e la morte sono cose legate all'esistenza, e quindi togliere la vita a qualcuno o morire è una cosa normale, se c'è un motivo valido. Gli insegnamenti religiosi servono ai potenti di questo mondo per sottomettere la gente al proprio controllo. Così le idee buone, capaci di unire le persone, diventano le catene che le rendono schiave, il veleno che le uccide, il rancore che le divide. Per questo ogni religione in sé è un male, perché sfrutta la tendenza della gente a credere. Se solo sapeste che amico ho perso in battaglia, punto punto, è successo non 42 anni fa, ma l'altro ieri. Punto punto, in mezzo alle montagne, nella sabbia, dove il caldo brucia tutto, infuocando la mia memoria, ormai lontana dall'infanzia. Noi da ragazzi leggevamo libri di guerra. Lui di certo non poteva immaginare che sarebbe toccato a me trascinare il suo. Non si risolve niente con il coltello e le botte. Così sono passato alla pistola. Era un ragazzo molto chiuso e debole. Aveva problemi di salute. Era quasi sordo e portava occhiali enormi. Quindi nella comunità siberiana è stato subito trattato con compassione e comprensione, come tutti i disabili. La gatta non partorisce quando vuole, ma quando arriva il suo tempo. Improvvisamente i miei pensieri erano diventati fluidi e chiari. Non c'era più niente che li fermava, nessun ostacolo. Nella tradizione criminale siberiana le persone malate nello spirito o nel corpo sono considerate sacre, definite messaggeri di Dio e chiamate, voluti da Dio. Lo sapete che le persone felici non contano il tempo, perché nella loro vita ogni momento scorre con piacere. Non ti servirà la curiosità, perché una volta soddisfatta può trasformarsi in un vuoto che porterai dentro di te per tutta la vita. Neppure l'entusiasmo ti servirà, perché a ogni ragione di entusiasmo si accompagna una difficoltà di uguali proporzioni, e saranno proprio le difficoltà a schiacciarti come un insetto. Le uniche qualità di cui hai. Nella Russia di adesso non si sa quasi niente dell'esilio dei siberiani in Transnistria. Qualcuno ricorda i tempi della collettivizzazione comunista, quando per il paese passavano i treni pieni di povera gente che veniva spostata da una parte all'altra per ragioni note solo al governo. Nonno Cuzia diceva che i comunisti avevano pensato di In guerra l'idea della morte non abbandona mai i tuoi pensieri. Ognuno prova a esorcizzarla a modo suo. Qualcuno tenta di scacciarla, altri ne sono ossessionati e finiscono col diventarne vittime. Altri ancora si comportano duramente, cercano di tirare fuori il peggio di sé, come se dentro le loro anime ci fosse un generatore di cose negative. A volte la corrente della vita mi ha sbattuto sulla riva così forte che ho rischiato di lasciarmi andare. In quei momenti, e ogni volta che mi sento smarrito, mi concentro sul mio passato, sulle persone che ho conosciuto e sulle avventure bellissime e terribili che abbiamo condiviso, e tra le diverse immagini a un certo punto affiora sempre un non è il titolo che fa l'uomo importante, ma è l'importanza dell'uomo che rende onore al titolo. Quello che conta è la nostra vita, le nostre idee, che dobbiamo sparpagliare come i seminatori nei campi. Ogni uomo porta dentro di sé Dio e il diavolo. In certe situazioni è giusto che uno prenda il sopravvento sull'altro, solo così l'uomo può sopravvivere. Spesso gli altri soldati, quando scoprivano che facevo il cecchino, mi domandavano cosa ci fosse di così bello nel mio ruolo da spingermi a vagare di notte in mezzo al territorio nemico, passando tra i campi minati, rischiando la vita per prendere la posizione migliore e stare lì immobile per ore a spiare il nemico, quando spesso tutto si. La pistola è uguale al portafoglio, si tira fuori solo per usarla, tutto il resto è da imbecilli. Solo chi apprezza veramente la vita e la libertà, e combatte fino in fondo, merita di vivere libero. Dal comando arrivavano di volta in volta numeri diversi. Prima si parlava di mille terroristi, poi di 1500, infine di quasi 3000. Ogni ora il numero saliva come fossimo stati a un'asta. Una cosa però era certa. Molti di loro erano arabi e afghani, gente povera assoldata per combattere, quasi tutti tossicodipendenti. E, stata una sensazione quasi fisica, quando attraverso il tuo corpo ti rendi conto che certe idee, fantasie, comportamenti, non li riavrai mai più, per colpa del peso che ti è caduto sulle spalle. In guerra mi facevano più impressione i vivi, che i morti. I morti mi sembravano dei recipienti usati e poi buttati via da qualcuno, li guardavo come se fossero bottiglie rotte. I vivi, invece, avevano questo terribile vuoto negli occhi, erano esseri umani che avevano guardato oltre la pazzia, e ora vivevano abbracciati alla morte. La giustizia umana è orribile e sbagliata, per questo motivo solamente Dio può giudicare. Peccato che in alcuni casi noi siamo obbligati a superare le sue decisioni. Dio non ha creato i preti, ma solamente uomini liberi, e comunque esistono anche preti buoni. In quel caso non è peccato andare nei luoghi dove loro svolgono la loro attività, ma è senz'altro peccato pensare che davanti a Dio i preti abbiano più potere di altri uomini.